Il giorno e la storia. Oggi è il 15 dicembre. 1917 termina la battaglia di Verdun. 2.000. Spento il terzo reattore nucleare di Cernobili. 1976. Sesto San Giovanni. Il brigatista Walter Alasia ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della stampa. Oggi ho scelto di parlarvi della sentenza di morte nei confronti di Adolf Eichmann presa dal Tribunale di Gerusalemme nel 1961.